L'hai sentito? Corri, corri, corri! Nascondiamoci! L'hai sentito? Si! Cos'era? Che cosa era? Che cosa era? Che cosa era? Che cosa? Questa! Era questa! E' atterrata qui! E' scomparsa! E' scomparsa! E' scomparsa! Cosa c'è? C'è qualcuno in casa! No, è vuota! Si si c'è! Non c'è nessuno! Non riflessio! Cazzo ci sta per me! Come è che non ci vuoi? Aspetta! Voglio spartare! Cos'è? Che serie? Che posta è? Non lo so! Eh? Cosa? Oh cazzo! Oh cazzo! Cavolo! Corri! Vieni! No! Di qua! Di qua! Nascondiamoci qua! Aspetta! Sì! N'è sentita la voce? Si la sentita! Ho detto! Il mio nome! Ho detto! Il mio nome! Il mio nome! No, no, no! Cazzo! 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 Addio! Ah! Fermo! Siamo scendendo la mano che mi tocco! Il dito mi... Corriamo! Corriamo è meglio correre! Corri, non rimanere indietro Corri, corri Corri Qualcosa Mi ha afferrato il piede Che cosa